Qualche temerario che osa sfidare il diveto di bagnazione c'è questa mattina nella zona nord di Francavilla, al confine con Pescara, dove è scattato l'allarme mare inquinato a seguito delle analisi dell'ARTA dello scorso 12 agosto. I tecnici hanno rilevato valori anche 20 volte superiori ai limiti di legge consentiti per Escherichiacoli ed Enterococchi. La comunicazione da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente è arrivata al comune di Francavilla e a quello di Pescara ieri nella tarda mattinata, facendo così scattare i divieti da parte dei comuni. Assieme al fax dell'ARTA è arrivata anche l'ira del primo cittadino di Francavilla, oltre che degli operatori turistici che nei pressi di Fosso Pretaro hanno gli stabilimenti balneari. Antonio Luciani si scaglia contro l'ACA, la società che gestisce acquedotti e fognature, e minaccia denunce anche perché a distanza di giorni non si sa ancora quale sia il problema e se e dove ci sia stato uno sversamento di liquami. Proprio a Pretaro insiste uno stabilimento di depurazione delle acque nere. Non si sa se il problema si è legato ad un malfunzionamento dell'impianto. In via preliminare va detto che Francavilla ha 7 chilometri di costa, dei quali oltre 6 e mezzo perfettamente balneabili, con acqua pulita di colore chiaro, dove non c'è nessun problema. Detto questo devo altresì dire che è gravissimo, veramente molto grave quello che è successo, soprattutto quest'anno, perché questo è un problema che si verifica, si è verificato a volte anche in passato, ma quest'anno ci abbiamo lavorato, siamo stati a stretto contatto con i vertici ACA, abbiamo messo o pensavamo di aver messo in atto tutti gli accorgimenti utili e necessari. Invece alla vigilia di agosto scopriamo questi valori, scopriamo questa analisi negativa, ascrivibile alla assoluta responsabilità dell'ACA, che ne dovrà rendere conto. La cosa per la quale sono maggiormente rammaricato è il fatto che ad oggi, a due giorni, quindi dall'analisi negativa, nessuno dell'ACA si è sognato di alzare il telefono e di spiegarmi qualcosa, vorrei sapere se sono al lavoro come noi in questo momento, se sono in ferie. Anche questa cosa chiederò e presenterò denuncia presso la competente Procura della Repubblica.